Eeeh, what's up tutti i giorni e benvenuti le giocherine in questo nuovissimo episodio su Silence Vediamo ragazzi se riusciamo a raggiungere almeno i 30 like per questo nuovo video Ed eccoci qua di ritorno ragazzi, non perdiamo più tempo perché io sinceramente non vedo l'ora di vedere come procede la storia Andiamo Eccoci qua Che c'è? Oddio no Non credo Quello sull'albero ragazzi ce l'avevamo scoperto nell'episodio precedente che significava tipo eterno amore una roba di genere Eeeh Eh ragazzi deve aver perso la persona che amava Perlomeno questo fa dedurre Se sapessi come è stato liberato da una pianta carnivora No Non ne vuole proprio sapere Ma perché? Che ca... Che ca... Non so perché non si guida più di nessuno sto cavolo di cellaccio Allora parliamo con Kira Ok Ti aiuto subito? Ok Stai tranquilla ci penso io Con la mia forza assolutamente brutta eh Sì sì Adesso cade Ah Uh Ehi 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 Chi è? Scusa chissà perché l'avevo immaginato Eh scivolato Ah Ma figurati Ma figurati Allora Come fa ad arrampicarsi lì? Scusa eh Adesso ci prova Eeeh Niente Ah Sì certo certo No sta cerchando di farlo cadere No Non dire sciocchezze Coraggio Prendiamo a calci quest'albero Ah Ecco E uno E due Oh merda questa zecca Quella è la zecca del miele Quella che ci ha lasciato il miele incandescente Ah Oh merda Oh 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 Fatti vedere Codardo Dove l'hanno portata Spot Ah sei qua Ma che cavolo Lo so amico Ho fatto stare che dobbiamo prendere quel messaggio Allora radice con bocciolo Ce la fai ad arrivare lì sopra Sì come no Come è successo lì alla rupe Uguale proprio Niente da fare Succede tutto così in fretta Dannazione Verso Rini In che senso verso Rini Oh mio dio Ma che ca... In che senso Non sono mai chiare queste cose E adesso Oh merda stanno arrivando Fate attenzione a quei funghi Che sono allucinogeni Cerchiamo di non farci beccare Perché non sarebbe una bella esperienza Oh merda E adesso Eh Non so che è una lancia E quindi Ah Ok E quindi Come dovremmo prenderla Che forse non c'erano Non lo so Nascondiglio Sembra proprio L'episodio di ieri Su The Wardrobe Non farsi vedere Dai tizi Non so ragazzi Fatto sta che si sono create Due situazioni contemporaneamente Possiamo anche scegliere Ritornare verso Noah Vediamo un po' che succede Se va alla radice Eh Ah se la mangia Oh mio dio E' affamato Non so ragazzi Non mi permette di fare Praticamente nient'altro qui E cioè Proverete ad entrare nel buco A sto punto Non vedo altra soluzione Vediamo un po' dove ci porta Ho provato ad associare Spot Nelle sue forme Alla radice All'albero E non succedeva niente Oh mio dio Oh mio dio Oh Gesù Giuseppe e Maria Cosa cavolo Come faccio Non credo che ti cagherà Noah Il fatto è che c'è Se qua c'è la corrente Non credo che possiamo fare niente E infatti Per questo A quella radice Ragazzi A quella radice Che è da sola Ok quindi Dovremmo poter fare qualcosa Come fa a riarampicarsi lassù Non lo so Dovremmo poter fare qualcosa A questo punto A quella radice rossa Singola Che abbiamo visto ragazzi Che è questa qua Sì E quindi Che cavolo E come dovrei fare Scusami Con che strumento Dovrei fare una cosa del genere Che non abbiamo a disposizione Assolutamente nulla Boh Ok ragazzi Ho potuto Permetterle di fare Quest'azione Una volta che il cercatore Era di spalle Ovviamente Punto che Cioè se c'è un udito Sopraffino Ci sente abbastanza Oh Oh merda Oh merda Tira 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 Prendiamo sta lancia Una volta per tutte Forza Vediamo se riusciamo A farlo fuori Non so se sarà possibile Una cosa del genere Eppure tu sei così piccola Oddio 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 Quando è spaventata Si inghiozza Poverino Amore Come? Ma come non ti sente? Eh? Come non ti sente Non ti vede In che senso? Ok Ah 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 Che teneri Adoro Sam Ragazzi Sembra un personaggio Buonissimo Ok Quindi questo problema L'abbiamo Risolto È d'accordo È d'accordo E quindi adesso Dovremmo mettere Tipo una rete Dove diavolo La prendo La rete Gelatina reale What the fuck Wow Davvero sei in grado Davvero sei in grado Di arrivarci Oh mio dio ragazzi Wow Grande spot Assolutamente direi Oh mio dio Oh mio dio Oh mio dio E adesso Attenzione spot Wow I think you're soothing her Grande L'abbiamo rilassata Con la gelatina reale Com'è possibile Andiamo qua Intanto che facciamo in tempo Ok Ce l'abbiamo fatta ragazzi Grandioso Allora Vediamo un attimino Qui cosa possiamo fare Oh wow Merda Oh mio dio Questa sigara albere Ok Vediamo cosa possiamo fare Ok Qua c'è Squarcio È rete di salvataggio Proviamo così No Se lo riduciamo così Sì Forse ci siamo Ci siamo Oh Forse ci siamo ragazzi Abbiamo trovato la soluzione Perché se no Cioè Trovare una rete di salvataggio Adesso sì Perfetto Eh Finire bene Oh man Oh man Oh man Dai no Ha coraggio Non credo Che il tuo amico spot Ti farà cadere Coraggio Ponte spot Forza Ah ok Serve per farci rimbalzare Ragazzi Che cosa meravigliosa Eh Ma dai Non ce la fai ad arrivare Cioè Adesso che c'è la rete di salvataggio No Dovremmo poter tornare di sopra Eh no Ok Aspettate un attimo Se adesso dico a spot Di andare lì A mo' di rete Forse dovremmo avere risolto Il problema Ragazzi Ok Perfetto Ok Perfetto Problema risolto Meno male Torniamo di sopra Vediamo di allentare un pochettino Sta caspita Di radice Ok Oh Adesso dovrebbe essere Atterrata su spot Torniamo di sotto A controllare Madonna No Un po' di vitalità Forza e coraggio Cavolo Stai salvando una tua amica Anche se l'hai conosciata Tipo da mezz'ora Ma è sempre una tua amica Ok Interrata sana e salva No Perché non è caduta Su spot Quindi c'è Quel passaggio Secondo me è stato inutile Ragazzi Ma vabbè Dai fa niente Ecco fatto Ecco fatto Adesso spot Di nuovo Ti toccherà Metterti a mo' Di rete Qua Adesso dovremmo Esserci Sì Spero che Questa cosa Non ci porti A cadere di sotto Effettivamente Forza Oh Piano Stai bene? Kira Oh Ehi Stai bene? Non mi dì che devo fare Oh mio dio Devo fare La rianimazione Controlliamo i segni vitali Oddio No Oddio No Kira Dai Resisti Oh Oddio Questo oddio Devo rianimarla Ecco Forza Oh Che tenerezza Mizzica Forza Noa Continua a fare Il massaggio cardiaco Coraggio Coraggio Dai Avanti così Spot Non preoccuparti Ce la faremo A rianimarla Stai tranquillo Rianima Oh no Oh 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 Dai Coraggio Spot Tu non puoi fare qualcosa E che può fare a lui Proviamo con la gelatina Ah Forse possiamo usare i tentacoli Ragazzi Calma la regina Calma la regina qua Con questa gelatina magica E prenderemo i suoi tentacoli Per utilizzarli Per rianimarla Forza Forza no Forza ci siamo Che cosa è geniale Ragazzi Figa sta cosa Oddio Spero non sia troppo forte Forza 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 Ok Oh Gesù Oh merda Oddio 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 Sopra esplodere Che cavolo Che è successo Oh merda Ok Per fortuna Madonna Addirittura Ah ecco Cos'era stato Spiegazione ottenuta Ci sei? Meno male Bello il sorriso Bellissimo Come ti senti? Di sicuro di merda Poverina Oh Oh Ti ho salvato la vita Come ucciderti? Ti ho salvato la vita Ringraziarmi? Oh 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 Meno male Si è vero Le è diventato Un ciuffo grigio Si onesto Direi ragazzi Chi lo sa Già Direi che è il caso Di andarsene Comunque non mi ha ringraziato Cavolo Ti ho rianimato Ti ho riportato Dalla morte Manca un semplice grazie Va bene Dai Non me la prenderò Lascerò correre Z Solo per questa volta Z Il messaggio Vediamo cosa dice Questo benedetto messaggio Finalmente Oh Crap Le bieze sono tornate Oh no Oh Vediamo un po' Oh Ma scusa eh Appunto Oh merda Mazziamo 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 No Strappare il messaggio No Dai Quanto però Non abbiamo Altra scelta Ma è vuoto Cose strane Cose strane Cose strane Ragazzi Cose strane Comunque il mondo È fatto veramente bene Ragazzi Mi piace un sacco Sam Amico mio Oh Finalmente Cose strane Amare, sì, c'è anche lui Un piccolo incidente Mettetevi d'accordo Così contenta, ragazzi, riguardo Sadwick Non voglio rettristarla Sicuramente Sadwick apparirà prima o poi Dì a Rini che tipo di mondo è Silence? Sì Oh Eh, sì, onesto Eh? Uh Ah, di ciò che sai Ah, che bello Eh Io direi, mantieni la calma, perché dovremmo arrabbiarci? Vogliono solo avere delle informazioni in fondo Cosa avete roba di sbigliare tanto? Allora Eh È 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 Almeno, non davvero. Ehi, questo è il nostro ultimo flair! Rini, prendi la scuola! Sì, dimenticami! Oh! Oh, piccola, difendila! Scusa! Lasciatelo solo! Come on, little hopper! Scusa, voglio andare a casa! No, amore, no, lo so! Non mi piace qui, tutti si trattano e si trattano. Perché non sei il reo invece della falsa queen? Perché è così bambina? E perché ti senti quelli sbagli sbagli sbagli? No, 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 no. Ti prenderò a casa, mi prometto. Ma come? Ho trovato Janus e ci prenderà un'altra ruota. E' lo sapevo. Janus sapevo il modo? Poi, prendi un po' di resta. Nemmeno di tutte le forti che possiamo dare. Ok. Amore! Ti porterò via, te lo prometto! Che teneri! Sì, little hopper! Don't forget what dad always said. We are... Like two clouds in the wind. No matter how far the winds drift us apart. We'll meet... Out of the ocean. Quindi hanno perso i genitori ragazzi quando comunque... Potevano già ricordarsi di loro, praticamente. Ok, ehm... Che cosa che possiamo fare? Ah, ok, perfetto. Meraviglioso. Poco di bivacco. Parlano tutti di questo Janus, ragazzi. Sta a fare cos'è? Boh, è una statua. Eh, verso la montagna. Che altro possiamo fare? Samuola e Kira? Ah, Janus, ok. Ah, Janus, ok. Ma perché no? Davvero? Questo lo credete voi? Adesso vi stupirò. Vediamo un po'. Il santo grano. Dai! Poverino! Pussa. Che viene? Eh... Eh, eh, infatti. Ah. Eh... Che ognuno dà la propria versione, ragazzi, ovviamente. Ah, per forza. Ok. Datti una calmata. Direi. Ok. Eh, va bene. Possiamo fare altro se non continuare a parlare con loro. C'è il momento. Ci piace. C'è il momento. Non so, sì. C'è il momento. C'è il momento. Sì. Il momento. Sì. Vajrati. Ok, andiamo Ah, Gesù, non ci si può mettere d'accordo con Kira È proprio una testa dura Wow Che figo, ragazzi È bellissimo, eh Cioè, ci sono delle atmosfere meravigliose in questo gioco Piccolo passaggio nel muro, porta scorrevole Eh, già Uncchio di foglie Che pensi di trovarci? Ancora? Sti affari volanti? Certo, certo Allora, porta scorrevole Non credo che potremmo farla scorrere Eh, sì, invece Grande Perché se no c'è il piccolo passaggio nel muro, ma Ah, oh merda Si sta chiudendo Eh, diventa sempre tutto più misterioso Incredibile Wow Wow Ahah Certo E come dovrei costruirla, la scala? Eh, non lo so Non credo Sarà tipo una specie di ampolla Di bottiglia Ah Non lo so Non lo so Bocciolo appassito Eh, non c'è spot Non so spot Niente Ah, catenaccio di sicurezza Ok Possiamo tirarlo via Ah Oh merda E adesso? Wow Non vedi il fumo verde che esce? Eh Che culo Come fai a non respirare? Come puoi non respirare? Che culo Ah Merda Oh Ma che cavolo? Ma che diavolo? Eh Ma che succede? Non è che è sto polline che è allucinogeno No Oh mio dio ragazzi È il polline che è allucinogeno Direi Ok Non so cosa diavolo Significhi tutto questo ragazzi Ma Vabbè niente Ah Fior esotico Mizzica ancora Continua a ispirare Mi raccomando Che fai la cosa migliore Pesante grata Non credo che potremmo essere in grado di spostarla Ah Invece sì Pensate che cosa magica Incredibile Non c'abbiamo la forza per arrampicarci su un albero Ma ne abbiamo per sollevare una pesante grata Ok Direi che lo prenderemo Allora Ecco fatto Luce Adesso sì Oh mio dio No è un altro di quei fiori Secondo me C'è C'è Madonna ragazzi Ma si può basare tutto sulle cose allucinogene La volta scorsa Erano i funghi Oggi È il polline dei fiori Oh mio dio Via Ok Oh mio dio Oddio ragazzi E E Come faccio a dirvelo È inquietante questa cosa Va bene Catena Catena Ok Quindi tu non lo farai Questo mi hai voluto dire D'accordo La cosa si sta facendo abbastanza angosciante Vi dirò la sincera verità Ok Dovremmo esserci C'è la melodia perlomeno non sembra stonata almeno E se passiamo nel piccolo passaggio Questo serve per uscire immagino No Ci manca il terzo piolo ragazzi Non so se sarà fuori Sinceramente Finestra Possiamo usarla per fare qualcosa Ok Forse Sì E che cosa ci dovrei fare A che mi è servito mettere la finestra qua No seriamente Eh Sarà il solito animaletto del cavolo Oh mio dio Ah Oh Gesù Ma perché c'è un cane di pietra Ok Certo Correggerà Certo Stai tranquillo Ok Ci mettiamo qua il cane E ci saliamo sopra Per arrivare No Non ci arriviamo comunque Ci arriviamo Davvero Io dubito Oh merda Ok 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 Cerchiamo di mantenere l'equilibrio Il più possibile Il più possibile Il più possibile Il più possibile Forza Ok Sì E ce l'abbiamo fatta Adesso l'acqua Dovrebbe arrivare ad innaffiare L'altro fiore Ragazzi Credo eh Ecco di nuovo Oh merda Via Grande Sì So lanciare Si riesce a fare qualcosa Evidentemente Dovremmo esserci ragazzi Abbiamo trovato tutti e tre i serpenti Che Ragazzi io continuo a dirlo È inquietante questa cosa Va bene Sì ok Ci manca il triangolo Ok Ci siamo Yeah Inquietante Continuerò a dirlo Che tutto questo è inquietante Ok Adesso possiamo prendere i serpenti Allora Non so perché In questo gioco C'erano così tanto Con le droghe ragazzi Ok Sì sì Ci siamo Adesso possiamo arrampicarci Senza creare troppi problemi Allora Up there Quick Oh merda Piano Piano Oh Ce l'abbiamo fatta Perfetto Si vede qualcuno dalla finestra Wow E perché dovresti voler cadere Comunque possiamo magari provare Ok Possiamo entrare Oh Finalmente Va bene ragazzi Allora Mi ha appena salvato la partita Anche oggi è stato molto interessante Sono successe cose Veramente particolari E quest'ultimo pezzo Con Questa droga Rilasciata dai fiori Ragazzi Mi ha lasciata Senza parole Questo video termina qui Grazie a tutti Un bacione Up there Ciao a tutti ragazzi Ciao Vi ricordo ragazzi Che se volete Questi aggiornamenti Sul canale Potete trovare Tutti i link Nei miei social In descrizione E anche il link Per farmi delle donazioni Ciao